Bonus, pensioni, fisco e sanità, tante misure nella manovra, nella legge di bilancio che comincia il suo iter in Senato, 109 articoli e l'Abruzzo che avrà un ruolo chiave perché il senatore Guido Liris sarà il relatore. Liris avrà in sostanza il compito di fare una sintesi degli emendamenti migliorativi alla manovra, compresi quelli dell'opposizione. Davvero tanta la carne a cuocere, torna a quota 103 la possibilità di pensione anticipata a 62 anni e 41 di contributi, si allungano i tempi delle finestre di uscita, rivalutazione delle pensioni, stop all'IVA del 5% per i prodotti dell'infanzia e poi affitti brevi, trattamento specifico per lavoratori di ristoranti e bar, taglio del cuneo fiscale, importanti anche le misure previste per la sanità e tanti bonus e agevolazioni, carta dei beni di prima necessità, fondi per i mutui prima casa, canone RAI meno caro e tanto altro. Un grande riconoscimento, un motivo di orgoglio personale per l'Abruzzo, per quello che rappresenta l'Abruzzo oggi a Roma, l'esercitare il ruolo di relatore della finanziaria, non capita nella vita, probabilmente non capiterà mai più, è la modalità giusta per poter affrontare le tematiche sul campo, tematiche difficili, tematiche in una congiuntura economico-finanziaria particolare, in una congiuntura geopolitica molto particolare, laddove non ci può essere un assalto alla diligenza, laddove bisogna tenere la barra dritta e tenere chiaramente d'occhio quelle che sono le priorità del governo Meloni, avendo la capacità di parlare con il governo laddove ci fossero delle capacità da parte dello stesso o di idee che arriveranno nel corso dei giorni per migliorare la finanziaria, nel caso ci fossero i tempi, nel caso ci fossero idee anche che derivassero dall'opposizione. Sarà un motivo per poter ascoltare e audire tutte le categorie, le parti attive, fuori dal contesto politico e andare ad ascoltare tutto quello che arriva del territorio nazionale, quindi ci saranno le audizioni già dal martedì della prossima settimana per poi arrivare a un'operazione di sintesi, ma credo che sia il modo giusto per poter contare sempre di più da parte dell'Abruzzo per quanto riguarda proprio l'agenda Meloni.